Siamo con mister Torrenta alla vigilia di Gubbio Pescara. Mister, il Pescara è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, ma come si prepara una partita così importante in così poco tempo? Bisogna prepararsi cercando di recuperare dopo la partita di Grosseto. In un giorno abbiamo studiato gli avversari, sappiamo che incontriamo una squadra che ha delle grandi individualità, che è una squadra che ha grande ritmo, una squadra costruita per stravincere il campionato. Ci aspetta una gara difficile, ma noi giochiamo in casa, abbiamo rispetto di tutti, ma proveremo a batterli, anche se sappiamo che per batterli dobbiamo fare veramente una grande impresa. Domani sera il Gubbio e mister Torrenta rincontreranno Galano. Quali emozioni prova? Come si ferma soprattutto un giocatore come Galano? Ma intanto mi fa piacere rivedere Cristian, perché è stato per me un giocatore importante, un ragazzo eccezionale, siamo stati insieme tre anni, un giocatore che con questa categoria non c'entra nulla, quindi lo rivedo con grande piacere. La classifica dopo cinque giornate dice Pescara 11 e Gubbio 9, si può parlare di scontro diretto? No, direi di no, perché le ambizioni sono completamente diverse. Stiamo parlando di una squadra, come dicevo prima, che deve stravincere il campionato. Noi cercheremo di fare un campionato per far divertire la gente e cercare sempre di migliorarci, dare il massimo. Poi vedremo cosa ha detto il campo. Andiamo a we abbiamo 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 América